Roma, studi di Rai Gulp Una puntata come le altre potrebbe sembrare, e invece... I nostri due eroi sono vestiti in maniera completamente strana Occhiei da sole, cravatta, e anche i ricchi premi e il cotillone Allora la domanda nasce spontanea, come mai si sono agghindati in questo modo? Boh! No, tu non è che devi rispondere, solo versi Ah, scusate La domanda nasce spontanea, come mai si sono agghindati in questo modo? Stavano mai raschiando il fondo del barile, questa è la trista realtà Hai pestato qualcosa o... andiamo avanti Direbus non ce ne veniva in mente nessuno Eh Ma com'è? Vabbè, basta, comunque, cioè, allora dite, non si può fare Non lo so fare, non lo so fare Io sono bravissima invece Io sono più per il minimo e rebus Poi alla fine però lo fai fare a me Non c'è? Fai tutto da solo? No, faccio i rumori, tu parli Ah, va bene, d'accordo, ci sto Proviamo a invertire i ruoli dopo Faccio i rumoris Senti, per cortesia, rimettiamoci gli occhiali, dai Vabbè, rimettiti gli occhiali Ancora? Sì, sì, voglio, voglio anticipare questo momento Fai una bella, bella chiusura, bella lunga, eh Inventati un bel discorso, così abbraccio, vai, vai Ma io devo parlare, no, facci i versi No, le abbiamo, no, i versi, ora li faccio io, vai E qui, dagli studi di Regult Sta per finire una nuova puntata di Posa Posta Vi aspettiamo prestissimo Scriveteci Mandateci mail Disegni Noi vi aspettiamo, Joe e Mickey Grazie, grazie